Ma è importante spiegare in questi giorni le ragioni per le nostre scelte. Quello che abbiamo fatto nel 2008, quando abbiamo deciso di andare da soli per la campagna elettorale, per dire basta a quel piccolatismo che stava governando l'Italia, che stava portando l'Italia verso un precipizio, verso una situazione davvero drammatica. Speravamo di aver torto, ma purtroppo avevamo ragione, perché nel 2011, avete visto quello che è accaduto, abbiamo determinato noi, piccolo ma importante, il cambiamento del nostro paese, abbiamo portato il Presidente Monti alla vita del governo ed io voglio dirvi una sola cosa, io non ringrazio a noi molti del governo, io ti voglio ringraziare ognuno di voi, ognuno di voi per i sacrifici che avete fatto che stanno per salvare la nostra Italia. E' che senza i sacrifici fatti da tutti voi, oggi in Italia, non avrebbe riacquistato quel prestigio che avete acquistato a livello internazionale, non avrebbe rimesso i conti in ordine, e se oggi si va in Europa, perché 15.000 euro in Europa, e si viene rispettati, non si deve, non al Presidente Monti, che pure è il capo della nostra coalizione, non al governo, ma si deve davvero a tutti gli italiani che si sono sacrificati. Grazie.